Potente a pala ragazzi, qua Vax, loggio mi caldo, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un nuovo video che ragazzi è un nuovo video stramagico e stratattico Perché infatti oggi sono qui a proporvi, o meglio a riproporvi il contest relativo alla sfida tra Milan e Atletico Madrid Perché dico riproporvi? Perché ragazzi un due settimanelle circa fa vi avevo detto che se il Milan avesse vinto contro l'Atletico Madrid nella sfida di andata Io avrei dato 50.000 crediti ad un fortunato vincitore per ogni console In che senso per ogni console? O meglio, cioè non proprio per ogni console ma se tipo il vincitore fosse stato su Play 4 io gli avrei ovviamente dato i crediti su quella console Stessa cosa sarebbe valsa se il vincitore fosse stato su Xbox 360 o Xbox One Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Però c'è stato un piccolo problema, qual è questo piccolo problema? Che il Milan non ha vinto, quindi il contest si è annullato E io ho detto eh no, eh no, eh no Oggi 11 marzo 2014 c'è rimessa queste due grandi squadre E ho detto e bisogna fare allora un nuovo giveaway o meglio un nuovo contest Infatti ragazzi come potete vedere dalla bellissima immagine che mi ha fatto il mio magico grafico Ergasmic HD che tengo a salutare Quindi bella Ergasmic E voi avete la possibilità di vincere 50.000 crediti nel caso in cui il Milan riesca a passare il turno Ma come potete vincerli ragazzi? Principalmente questo contest si svolgerà sulla pagina Facebook Infatti in descrizione troverete due link Il primo che sarà quello che vi manderà direttamente alla mia pagina Facebook E il secondo che è quello che vi manderà direttamente al post relativo a questo contest Ecco voi dovete andare lì Praticamente una volta estrandati lì dovrete fare ciò che ci sarà scritto in quel post O meglio dovrete rispettare il regolamento Quali sono le regole? Allora per prima cosa dovrete aver messo mi piace a quel post Dovrete aver condiviso quel post e dovrete essere iscritti al mio canale Quindi ragazzi queste qua sono tre semplici regoli che dovete eseguire Per avere la possibilità di vincere 50.000 crediti Però ovviamente la difficoltà qual è? La difficoltà è che il Milan non riesca a passare il turno Quindi dobbiamo tutti difare Milan questa sera Quindi mi sembrava anche un'idea abbastanza tattica per difare tutti la stessa squadra Quindi io ad esempio in una schedina ho giocato X e 2 Quindi potete capire quanto io ci credo in questa vittoria del Milan Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Cercherò di portarvi un altro video domani E poi non so se questo lo terrò fino a domani Perché ovviamente dopo la partita non avrà più senso questo video Però comunque se domani non vi caricherò un video È perché non ho avuto tempo Dato che tornerò alle 4 da scuola Però io cercherò lo stesso di farvi un Voyager Match appena tornato E quindi ragazzi detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Vi sorda di lasciare un bel mi piace Anche se non c'entra Cioè anche se potete tranquillamente non farlo Perché dovete andare solo sulla pagina Facebook E comunque vi dico Buon ente a pala ci c'entra Al prossimo video Bolla